Ciao ragazzi, benvenuti alla nuova lezione del funizionale del Venerdì. Ciao. Come sempre c'è Lorenzo Gonzalo. Allora, prima fase. 13, 16, 60 secondi tutti, 40 secondi tutti, 20 secondi di lì. Mezzo lapis, affondi alternati dall'indietro e si tappano. Ora partiamo. Pronto. Partenza, mezzo lapis, via. Mi si dà a freddo, mi si dà a freddo, mi si dà a freddo. Era una buissima idea, buissima idea da freddo. Mi bevessi, ma. Come state ragazzi? Non ci possono rispondere un po'. Dai, dai, che oggi facciamo un po' più diverso dal solito. Ripresa un po' il circuito che facevamo per i miei fattori. Giustamente, mi raccoglieremo il ciclo? No, mi raccoglieremo il secondo e il terzo giro. 40 secondi, leggero manca tanto, leggero manca tanto. 50 secondi, mi manca solo 10. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, secondo esercizio, affondi indietro all'interno. Se qualcuno ha problemi, naturalmente, lo puoi fare avanti, certo? Giusto per variare. Bravo! Andate la piante, un'altra piante, un'altra piante di scelta, di visualità. Forza ragazzi, forza ragazzi. Siamo in 40 secondi. 30 secondi andate. Purtroppo qua le cose non sembrano da bellissimo. Non ci rimettiamo per noi, non tanto. No, non ci rimettiamo per noi. Siamo in 40 secondi, più solo. Non ci rimettiamo per noi, perché ci siamo stressitati nella nostra parte del video. Meglio farlo più nuovo. 50 secondi, leggero che mancano solo 10. 5, 4, 3, 2, 1. Terzo esercizio, scelta. Arte o meno, arte o meno. Leggero passiamo già in metà. vedete che sta la differenza di Lorenzo dal primo circuito adesso come metto il primo spessissimi io non ero una cosa più accoglie cosa serve? non lo serve cosa serve? io se tu hai tutto il primo giorno e poi mi ritardo che fai? superate la metà 3 canali e 15 secondi 5 4 4 4 7 7 7 7 8 8 9 o no i non 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 la questa è una paratia paratia si vengo 10 secondi al quad andiamo anche in 5 secondi 4, 3, 2, 1 vai con gli apponi nel terreno di dietro da 3, 40, 4, 20 anche queste sono le risparmette come ho fatto quello dentro perché era un po' freddo ancora 20 secondi 10 secondi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vai con gli addominali fuori da 4, 20, a 5, 20, 7, 6 20 secondi 20 secondi 10 secondi 6, 5, 4, 3, 2, 1 ritorniamo i piedi mezzo barbis 20 secondi da 5, 5, 20 8 secondi 10 secondi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ci vediamo per la seconda tra un minuto e mezzo